Non solo i big che hanno trovato posto nei grandi partiti, anche in provincia di Brindisi saranno tanti i candidati ombra, quelli cioè che a fronte di scarse possibilità di elezione scenderanno comunque in campo nella prossima campagna elettorale, in posizioni meno nobili ma perché no comunque prestigiose e chissà che alla fine non ci scappi la sorpresa. Il nome caldo delle ultime ore è quello di Cristian Continelli, consigliere comunale del PDL di Ostuni che sarà candidato nella lista alla Camera di Fratelli d'Italia, il partito fondato dallo strano trio La Russa, Meloni e Crosetto, prime tre piazze della lista già assegnate quindi scarse possibilità di elezione per Continelli ma la politica si sa è strana. Meno strano sarebbe ritrovare il vice sindaco di Brindisi Paoletta Baldassarre in lista, sempre alla Camera per l'Udc una candidatura di rappresentanza come sarebbe quella eventuale del coordinatore provinciale dello scudo crociato Ciroargese. Anche nel PDL circolano i nomi dei candidati ombra, a quello dell'ex assessore allo sport dell'era Mennitti Cosimo De Michele si affiancherebbe secondo voci tutt'altro che confermate quello del capogruppo azzurro a Brindisi, Mauro Dattis. L'eventualità potrebbe concretizzarsi se Michele Saccomanno, senatore uscente ma nel caos d'eroghe dato in rotta di collisione con il PDL lasciasse libera una postizione borderline nella lista alla Camera un posto cioè tra il decimo e il dodicesimo. In FLI si parla di una candidatura di rappresentanza anche per Gianfranco Taurisano coordinatore francavillese di Futuro e Libertà mentre nel PD le zone basse delle liste alla Camera e Senato saranno occupate da tutti i candidati delle scorse primarie tranne nel Brindisino da Loredana alle Grottaglie che ha gentilmente declinato l'invito. Nel Movimento 5 Stelle i Brindisini sono stati un po' tagliati fuori dalle primarie registriamo il solo Giovanni Muci, quattordicesimo alla Camera e che immaginiamo sosterrà apertamente il capolista Giuseppe D'Ambrosio e Maurizio Buccarella.